capitolo sesto intanto nel gran teatro excelsior mondanità lusso e eleganza trionfavano quella sera per lo spettacolo di gala in onore del granduca sette giorni prima gli orsi erano stati respinti dalle mura valeva ben la pena di festeggiare l'avvenimento la sala veramente sfolgorava di sete preziose e di sontuose uniformi c'era un principe indiano con la principessa c'erano ufficiali di tutte le armi in gran tenuta c'erano conti visconti marchesi e baronetti e perfino un langravio che esattamente neppure noi sappiamo che cosa sia c'erano due alti dignitari della corte persiana c'era anche il professor de ambrosis in incognito ma come si fa a mantenere l'incognito con quella faccia che si riconosce a 100 metri di distanza era tutto solo in un palco con in testa l'inseparabile tuba alta un metro e venticinque il programma organizzato appositamente per compiacere al duca comprendeva la danza del sicomoro con sei ballerine e un moro i pagliacci con le loro scempiaggini mangiatori di spade di fuoco e di mazzi di carte da gioco con le bocche che paio unvoraggini leoni e tigri ma innocui prestigiatori e ventriloqui cioè quelli che parlano con la pancia altre 20 ballerine di francia esercitazioni di fuoco e destrieri otto elefanti bianchi e neri poi con cilindro e guanti pulci e maestrate parlanti infine prodigio insuperat niente meno che l'orsacchiotto goliath piccolo è vero ma ciò nonostante numero molto importante tant'è vero che per miglia e miglia non si trova uguale meraviglia il pubblico dal mattino aveva sentito dire che gli orsi erano tornati all'attacco della città e si era a dir la verità un po inquieti ma l'ingresso nel teatro del granduca e della granduchessa in pompa magna dissi poi timori se le loro altezze si degnavano di partecipare allo spettacolo voleva dire viva dio che le cose andavano bene e l'orchestra suonava le ballerine danzavano che parevano libellule e il ventriloquo cavò dalle viscere tra l'incredulità degli zoticoni convinti che ci fosse un trucco cavò dicevamo una voce come non esce neppure dai sepolcri ogni tanto il granduca faceva un cenno e un ufficiale si precipitava al suo fianco per ricevere ordini novità chiedeva il granduca tutto bene altezza serenissima rispondeva l'ufficiale non avendo il coraggio di dire la verità che era tutt'altro che allegra e l'orchestra continuava a suonare le danzatrici ballavano il prestigiatore estraeva conigli vivi dalle zucche barucche e il ventriloquo parlava con la pancia di argomenti vari e ne trasse pure una cantatina che fu applaudita sorrideva compiaciuto il granduca si divertiva lui non andava forse tutto a gonfie vele in realtà tutto andava a scatafascio gli orsi avevano già espugnato la fortezza e rompevano per le vie della capitale finché la catastrofe si rivelò nella forma più sensazionale nello stesso teatro tra i battimani frenetici della folla l'orsacchiotto goliatta aveva già iniziato i suoi sorprendenti esercizi in equilibrio su una corda venti metri dal piano del palcoscenico facendo volteggiare un ombrellino cinese quando si udirono delle strane voci una tenda si aprì e re leonzio in persona seguito da un trappello di orsi armati comparve nella platea mani in alto intimarono le belve all'elegantissimo pubblico e tutti agghiacciati dal terrore alzarono le mani eccezione fatta per le ballerine che da tanta paura che presero restarono cambiate in statue così come erano con una gamba alzata e tali e quali furono poi collocate sulla facciata del teatro dove si possono ammirare tuttora a perpetua celebrazione dello storico evento insomma alzarono le mani ma che fa leonzio perché invece di piombare sul granduca sul nemico mortale fissa così l'orsatto equilibrista perché tende le zampe al palcoscenico e barcolla quasi fosse ubriaco tonio e anche l'orsatto riconobbe la voce del padre benché fossero passati degli anni per la sorpresa anzi incespicò rischiando di precipitare ma quel bravo artista che era riprese subito l'equilibrio e continuò la pericolosa passeggiata senza dimenticarsi di far volteggiare l'ombrellino era tonio il bravo orsacchiotto che sospeso fra le mille luci del teatro per motivi di pubblicità avevano messo quel ridicolo nome di goliath ma si ode all'improvviso e tutti hanno un sobbalzo il granduca che ha capito tutto ha sparato su tonio per vendicarsi con la sua pistola infallibile dall'impugnatura dionice tempestata di pietre preziose poteva prendersela con leonzio suo diretto avversario no la sua cattiveria è molto peggiore di quanto comunemente si immagina ha preferito ammazzargli il figlio scandalo degli scandali evitiamo di descrivere il parapiglia che successe per non perdere tempo tutti gridano imprecano piangono naturalmente gli orsi dalla platea hanno fatto fuoco immediatamente crivellando di colpi il granduca che si abbatte stecchito e per la sala si spande un odore acuto di polvere da sparo che i vecchi soldati annusano con soddisfazione ma in compenso fa tossire dame e damigelle e tonio ahimè tonio è ferito e piomba capofitto sul palcoscenico in mezzo alle ballerine già in precedenza pietrificate piomba sul palcoscenico e ivi giace svenuto mentre il padre accorre in suo aiuto leonzio tiene il figlio tra le braccia e lacrime gli bagnano la faccia tonio figlio mio adorato mi lasci che ti ho appena ritrovato e se lo abbraccia stretto stretto allora il piccino apre un occhietto risponde è finita padre mio non mi resta che dirti addio piange il re come fosse un bambino no non devi dire così tonino vedrai che passerà questo malanno vedrai che i bei tempi torneranno scompariranno presto i tuoi dolori non ci saranno più che giochi e fiori giochi e fiori ma nessuno ci vuol credere gli occhi lucidi dignitari e personaggi importantissimi si scoprono il capo in silenzio perfino al professor de ambrosis guardatelo trema un poco la barba morirà dunque l'orsacchiotto saranno state vane tutte le fatiche di suo padre la sventura avvelenerà la grande vittoria tanto crudele dunque il destino uno due tre quattro nel silenzio del teatro vagano neri questi pensieri non sono canale